Nuova puntata, quella di ieri, 23 febbraio 2023, del grande fratello VIP. Pensate che ben 7 VIP, 7 VIPoni, vanno in nomination. Di chi si tratta? Bene, adesso ve li con tutti. Di Nicole Murgia, di Edoardo Tavassi, di Micolin Corvaia, di Antonella Fiordelisi, di Nikita Perison e di Oriana Mazzoli. Quest'oro finiscono dunque in nomination e quindi sono a rischio di un'eliminazione che ci sarà. Nella serata di ieri, 23 febbraio 2023, vi ricordo che a uscire dalla casa più spiata d'Italia è stato il buon Antonino Spinalvese, che una volta giunto all'interno dello studio del grande fratello VIP ha letteralmente baciato la bellissima e sexy Ginevra Lamborghini. Va bene? È stata una puntata molto piacevole, dove però non sono mancati i colpi di scena, infatti le punizioni che il grande fratello ha riservato, i VIPoni al grande fratello stesso, sono punizioni piuttosto esemplari, perché? Perché in pratica avrebbero staccato il microfono. Ok? Questa cosa è vietata dal regolamento. Nel regolamento non si può staccare il microfono. Ok? Anche se magari si vogliono vivere dei momenti intimi a luci rosse, non si può fare il gesto in questione. Da narratore italiano di YouTube, tale è tutto. Iscrivetevi se vi fa commentare. Ciao a tutti e una buona giornata a voi. Ciao.